Ve li ricordate i vinci sgrassi, le tagliatelle e il pollo arrosto? Sono i piatti del tradizionale pranzo domenicale. Ci si ritrova ancora tutti in famiglia attorno alla tavola? Ve lo abbiamo chiesto! E fa ancora il pranzo della domenica? È una consuetudine degli italiani? E' come no! Semane, semane! Io penso pure 200 kg! Sì, ancora qualche volta sì! A casa mia sì! Oddio, la mia famiglia è talmente piccola che normalmente sì, beh forse sì! Te lo fa ancora il pranzo della domenica? Sì! Che cosa si mangia la domenica? Vinci sgrassi, poi c'è stracciatella, faccio ancora la stracciatella di una volta e poi tante altre cose! Arrosso e poi basta, insalata, dolce, frutta, pure il caffè col sorvetto! Può darsi pure insalata e affettato perché i ragazzi alla sera escono e perciò al giorno a pranzo vogliono ritrovare però non vogliono! Perciò non c'è problema, non è come una volta che si faceva primo, secondo, adesso è cambiato proprio il menù della domenica! A casa mia, tortellini, stravo qua! Lasagne! Un primo, un secondo, basta! Tipico può essere, non so, le tagliatelle oppure con l'arrosto, ecco, di solito quello lì! Stando tutta la settimana in ufficio, la domenica proprio non so mai quello che devo cucinare! Quindi vado in congelatore e vedo, è deciso! Allora!